Il numero 4, il numero 1, il numero 0, il numero 4, il numero 2, il numero 3, il numero 1, il numero 4, il numero 0. bravi bravi 40 45 4 3 2 insieme 8 18 18 18 28 38 47 46 insieme una mano sulla guancia mi fa mare un po' la pancia la mano sulla fronte che devo dalla ponte la mano sul naso e non è proprio un caso la mano sul ginocchio e mando via il ginocchio la mano su crude la mano sul e adesso